Con l'hashtag per non dimenticare i Vigili del Fuoco hanno deciso di commemorare la strage del bus. Su Twitter il messaggio con un video dei caschi rossi che vissero una notte terribile e che rimarrà sempre impressa nella loro memoria. Avellino la sera del 28 luglio 2013 un pullman con 48 persone a bordo, tutte di Pozzuoli, precipitò per 30 metri dal viadotto Acqualonga di Monteforte Irpino sulla A16 Napolicanosa. I Vigili del Fuoco lavorarono tutta la notte per estrarre i 10 sopravvissuti al terribile incidente e le 38 vittime, diventate poi 40, persero la vita a bordo di un bus turistico che li stava riportando a casa dopo un pellegrinaggio a Pietrelcina. Anche quest'anno non è mancato un momento di preghiera per ricordare le vittime di quel tragico incidente, un momento commemorativo fortemente voluto dall'amministrazione comunale di Monteforte Irpino. L'incontro nel Giardino della Memoria ai piedi del viadotto che nove anni fa fu il teatro di una delle tragedie più gravi che abbia mai colpito la nostra provincia. Per quella strage a Napoli è in corso il processo d'appello. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, in primo grado è stato assolto dalle accuse di omicidio colposo plurimo e disastro colposo. Tra i primi soccorritori di quella sera, Maurizio Abbenante, medico rianimatore del 118. Il suo ricordo di quelle immagini strazianti a distanza di anni è sempre drammaticamente nitido. L'immagine è sempre quella stessa di quella ragazza che con l'aiuto dei Vigili del Fuoco siamo riusciti a tirare fuori dal pullman che parlava ancora, mi chiedeva di aiutarla, mi ha detto Maurizio perché ho detto che mi chiamava Maurizio, guarda che sto morendo, io dicevo no non ti preoccupare però quando siamo arrivati lì che stava in mezzo di soccorso, appena messo in mezzo di soccorso purtroppo si è fermato il cuore anche quella persona.